Approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'ex presidio ospedaliero di Sant'Arsenio, lavori per un totale di 696 mila euro che potrebbero partire a breve ridando nuova vita alla struttura sant'arsenese. Il direttore generale dell'ASL aveva già approvato il progetto il 26 ottobre 2017, ma lo stesso progetto ha subito delle modifiche dovute al diverso utilizzo che l'ASL ha deciso di dare all'immobile, che dovrebbe diventare una struttura utilizzabile per servizi di comunità e di assistenza. Approvato dunque il progetto, resta da espletare la gara per l'affidamento dei lavori, espletamento che tocca alla Soresa in quanto centrale unica di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici di lavori, servizi e forniture destinate alle ASL. L'ospedale di comunità ha di norma dai 15 ai 20 posti letto per pazienti prevalentemente con patologia cronica provenienti da una struttura ospedaliera che clinicamente possono essere dimessi da ospedali per acuti, ma non in condizioni di poter essere adeguatamente assistiti a casa o per pazienti fragili e cronici provenienti dal domicilio. Gli ospedali di comunità sono quindi uno strumento di integrazione ospedale-territorio e di continuità delle cure erogate sulla base di una valutazione multidimensionale della persona da assistere attraverso un piano integrato e individualizzato di cura. Non vanno intesi come strutture ex novo, ma come la riconversione di posti letto per l'adegenza in strutture già esistenti che vengono rimodulate all'interno del nuovo modello organizzativo.